Ciao a tutti, riflettevo su quanto ci fa malissimo essere ossessionati da qualcosa Attualmente vedo tanta ossessione nella politica, sulle idee politiche sull'essere in contrasto con qualcuno o qualcosa piuttosto che trovare i punti di contatto e ogni volta che mi accorgo di leggere qualcosa e star provando un sentimento di odio e di rabbia mi fermo e mi dico Aspetta Cristina, ma questa cosa? Che cosa potresti fare per approfondire la conoscenza e eventualmente cambiare idea o capire che cosa ti accomuna a te? Poi semplicemente ci sono delle cose su cui non ho nessuna influenza e spesso molti sono impotenti nei confronti di molte cose e la mia strategia è semplicemente allontanare qualsiasi pensiero e di conseguenza qualsiasi preoccupazione da me cioè ho deciso e ho capito che il futuro te lo fai tu e te lo fai tu alla luce delle cose vedi le cose come stanno, prendi delle decisioni e tutte le decisioni che puoi avere le hai tu non è che te le impongono gli altri vi volevo dire semplicemente questa mia riflessione su quanto è importante astrarsi un po' dal reale allontanare da sé dei pensieri negativi soprattutto le persone negative che ti inculcano pensieri negativi e opinioni negative su tutto e tutti a me il gossip non interessa il criticare qualcuno a prescindere non interessa argomento sempre le cose quando non mi piacciono o c'è qualcosa che non mi torna ma senza poi avvelenarmi perché sono io che mi avveleno non l'oggetto del mio rancore infatti è questo che molti non capiscono cioè quando uno si avvelena si avvelena dentro ma non si avvelena la persona che odia su cui sta riversando il proprio odio cioè a quella non gli fa niente è un po' come dice Arianna Porcelli Safonov cioè igiene personale una questione proprio di igiene personale non ascoltare i pettegolezzi non fregarsene di tutto quello di cui la gente parla maggiormente è perché poi cioè le persone che continuano a parlare della stessa cosa dello stesso argomento non fanno altro che alimentarlo perché al mondo non c'è solo un modo di far fumetto un modo di far politica e niente cerchiamo di vivere tutti un po' più in armonia e in pace con noi stessi prima di tutto ciao